Oggi la figura del segretario comunale è articolata in tre diverse fasce professionali, A, B e C, distinte in relazione all'entità demografica degli enti locali e allo Stato la categoria risulta caratterizzata da una grave carenza di unità, soprattutto i segretari di fascia C, da destinare allo svolgimento delle funzioni segretariali nei comuni più piccoli, avendo una popolazione fino ai 3.000 abitanti. I piccoli comuni risultano spesso sprovvisti di segretari comunali e appare necessario un intervento sulla normativa in materia, soprattutto nei comuni con limitate dimensioni demografiche. In vero esistono professionalità qualificate nei piccoli comuni, spesso già con funzioni di vice segretario, che potrebbero avere le competenze necessarie per coprire il ruolo da segretario. L'Anci ha sottolineato più volte la necessità di affrontare il problema, attualizzando il quadro relativo, per far fronte alle esigenze dei comuni e dei sindaci. Fatte queste debite premesse, serve razionalizzare la formazione d'accesso alla carriera di segretario, in modo da avere una più rapida emissione in servizio di nuove unità, con standard professionali moderni, dal passo con le esigenze delle autonomie locali. È necessario quindi un livello di professionalità adeguato rispetto agli importanti compiti assegnati dall'ordinamento, con obblighi formativi costanti, per raggiungere le sfide che i comuni si prefiggono di affrontare. Presidente, in questo quadro è altresì importante lasciare alle prerogative del rappresentante dell'ente locale la decisione sull'effettiva presa di servizio e sull'istaurazione del rapporto di lavoro al quale l'ordinamento attribuisce ogni valutazione di carattere fiduciario circa la scelta del segretario. Ma cosa più importante, credo che nei comuni con popolazione fino ai 10.000 abitanti, al fine di assicurare che in via temporanea e nelle more della nomina del segretario titolare possa essere garantito l'assolvimento dei compiti fondamentali del segretario, al vice segretario, così da poter utilizzare e far crescere professionalità interne all'ente che possano essere di beneficio allo stesso, sia in termini di valore aggiunto che di risparmio economico, così da compensare le attuali carenze numeriche emergenziali. Grazie. Grazie a lei. A facoltà di intervenire l'Onorevole Battilocchio. Prego. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, condivido molti degli spunti e delle riflessioni contenute negli interventi dei colleghi che mi hanno preceduti. I segretari comunali e provinciali svolgono un ruolo fondamentale per le autonomie locali, dovendo assicurare la direzione complessiva e il coordinamento dell'intera struttura amministrativa comunale, oltre alle delicate funzioni in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e controlli interni. Il ruolo e la funzione del segretario comunale e provinciale sono stabiliti dall'articolo 97 del testo unico degli enti locali. Quindi una serie di compiti, i principali dei quali sono di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi elettivi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Il segretario, inoltre, ai sensi dell'articolo 97,4 del testo unico degli enti locali, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, e ne cura la verbalizzazione, esprime il parere di cui è l'articolo 49 del testo unico enti locali, relaziona le sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili di servizi, roga su richiesta dell'ente i contratti nei quali l'ente è parte e autentica, scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitali dal Sindaco o dal Presidente della provincia, ed esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108,4 del testo unico enti locali. Mi preme ricordare, inoltre, che la Corte Costituzionale, con sentenza 23 del 22 febbraio 2019, ha affermato che le funzioni del Segretario Comunale costituiscono, oltre ad una garanzia del rispetto della legge e della regolarità delle procedure, anche un fondamentale supporto all'elaborazione dell'indirizzo politico dell'ente e alla direzione apicale dell'intera struttura amministrativa, stante l'immediatezza di rapporto con il vertice del Comune. Lo ricordava il collega, parlando di emergenza nazionale. A livello nazionale il numero dei segretari comunali dal 2010 al 2019 è diminuito di 659 unità, passando da 3.569 rilevati nel novembre del 2010 ai 2.937 rilevati a giugno 2019. E la situazione si presenta più critica soprattutto nei piccoli comuni. È stato ricordato qualche dato sull'Abruzzo, ma anche altre regioni stanno in una situazione altrettanto critica. in Liguria, su un fabbisogno di 238 autonomie locali, alla fine del 2019 resteranno 68 segretari comunali. Quindi una vera e propria emergenza. Tra l'altro, considerato che ciascuna sede riunisce spesso più di un piccolo municipio, anche con poche centinaia di abitanti, nella pratica un comune su due dei quasi 8.000 totali è amministrato senza l'indispensabile figura del segretario comunale. Come riportato dalle maggiori agenzie di stampa, Lanci e Lupi, con una lettera inviata già al governo Conte 1, hanno denunciato una grave carenza di segretari comunali, soprattutto di fascia C, ovvero quelli abilitati per le amministrazioni più piccole sotto i 3.000 abitanti. La situazione è diventata drammatica, infatti soprattutto in relazione ai piccoli comuni che si trovano sprovvisti di una figura fondamentale a supporto dei sindaci per la quotidiana attività amministrativa, soprattutto alla luce delle continue interpretazioni normative che implicano scelte e responsabilità gravose non solo per il bene comune dei cittadini, ma anche per la tutela e la salvaguardia del ruolo del sindaco stesso. E lo affermo anche in base alla mia esperienza personale di dieci anni alla guida della mia cittadina. I meccanismi di reclutamento già intrinsecamente faraginosi sono negli anni entrati in una fase di stallo. Ad oggi le uniche procedure di reclutamento aperte sono quelle avviate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2018, con il quale è stata prevista l'assunzione di 291 borsisti al sesto corso-concorso di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini delle iscrizioni dei 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'albo. Per cui sono state appena concluse le prove scritte. è quella promossa il 20 febbraio 2019 dal Consiglio direttivo per l'albo nazionale dei segretari comunali che ha deliberato l'indizione di un ulteriore concorso pubblico per 171 unità. A ciò si aggiunga che l'espletamento pluriennale del corso-concorso seppur necessario rischia di non rappresentare la soluzione decisiva alla carenza cronica delle figure apicali della pubblica amministrazione se individuato come unica possibilità di reclutamento. Sebbene la programmazione di due procedure concorsuali lo riconosciamo sia un fatto certamente positivo è da considerarsi non sufficiente ad ovviare nel breve periodo alle ampie e strutturali carenze che caratterizzano attualmente la categoria. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte intervenendo ad Arezzo all'Assemblea nazionale ANCI lo scorso 20 novembre ha assunto l'impegno di un concorso in tempi celeri ritenendo decisivo intervenire per assicurare la presenza di segretari comunali nei comuni soprattutto in quelli più piccoli. Però ecco, nonostante i proclami del Presidente del Consiglio si registra ancora oggi l'allarme relativo a questa drammatica carenza di segretari comunali che rischia di paralizzare a tutti gli effetti anche l'ordinaria attività amministrativa e il buon andamento degli uffici pubblici assumendo i caratteri è stato ricordato anche negli interventi di chi mi ha preceduto di una problematica di portata nazionale tale da richiedere con urgenza interventi risolutivi. Con la nostra mozione impegniamo il Governo ad adottare tempestivamente le opportune iniziative anche di carattere normativo già, se possibile, in occasione dell'esame di conversione del Decreto-Legge 162 del 2019 quindi del mille proroghe al fine di prevedere la riduzione delle tempistiche per l'emissione a ruolo attraverso l'accorciamento dei rispettivi periodi di didattica e di tirocinio pratico come previsti dalle procedure di corso concorso. Chiediamo altresì nella nostra mozione di assumere iniziative urgenti anche di carattere normativo e in via temporanea volte a prevedere l'attribuzione delle funzioni di segretario comunale a coloro che abbiano svolto le funzioni di vice segretario comunale presso enti locali e, per ultimo, ma non meno importante di adottare le opportune iniziative al fine di prevedere una maggiore frequenza delle procedure concorsuali dei segretari comunali quale percorso fisiologico di immissione in ruolo. Su questi temi sarebbe decisamente auspicabile tentare di raggiungere una convergenza ampia. Grazie. Grazie a lei. A facoltà di intervenire l'onorevole Rizzetto. Prego. Sì, la ringrazio. Buongiorno, Presidente. Dunque, Presidente, il tema dei segretari comunali è un tema assolutamente centrale sotto segretario rispetto a quanto stiamo vivendo in questi anni. Molto spesso, devo dire, che il gruppo Fratelli d'Italia ha sollevato il tema, però è parso quasi un urlo di dolore nel deserto, nel senso che forse negli ultimi anni siamo stati veramente gli unici a sollevare questo tema. Ho ascoltato con attenzione i ragionamenti appena effettuati da alcuni colleghi, sui quali, tutto sommato, posso ritenermi e possiamo ritenersi abbastanza d'accordo. Però vede il problema di oggi, del qui e dell'ora, per quanto riguarda i comuni e quindi il problema della carenza, della gravissima carenza dei segretari comunali, è che i comuni sono a vero rischio paralisi rispetto alle procedure amministrative degli stessi. Ho sentito parlare, ho sentito, ho letto di qualche sinergia che evidentemente qualche comune, grazie, devo dire, diciamolo, anche alla buona volontà, non soltanto evidentemente agli emolumenti che a fine mese queste persone giustamente, legittimamente percepiscono, grazie alla buona volontà di persone che si spostano di comune in comune proprio per svolgere questo tipo di attività. Però vede molto spesso c'è un problema territoriale. Se io vado in Sardegna e un segretario comunale per andare a svolgere il suo ruolo deve fare 50-60 km tra un comune e l'altro, è un problema. Se io vado nella regione dalla cui mi onoro di provenire, che è il Friuli Venezia Giulia, se lei potesse andare in qualche comune di montagna, ebbene, si potrebbe rendere conto che il segretario comunale che gestisce 4, 5, 6 o 7 comuni ha delle difficoltà logistiche, ad esempio, d'inverno a spostarsi. Allora, c'è il problema dei pensionamenti, c'è il problema già da noi spesso ricordato di quota 100 che in seno la pubblica amministrazione sta evidentemente creando dei danni perché non c'è quel ricambio, quel turnover di una persona che se ne va in pensione e subito dopo viene riassunta perché mancano i concorsi, mancano le procedure e quindi noi ci troviamo di fronte ad un fatto compiuto per cui in più di 8.000 comuni italiani ci sono circa 3.500 segretari comunali. Quindi più del doppio mancano. Il segretario comunale vede non è secondo noi Presidente facente parte di una casta. Il segretario comunale è colui che ha una formazione giuridica importante, è colui che ha una preparazione amministrativa altrettanto importante, è colui che collabora continuamente con gli stessi organi municipali e così passatemi un po' voglio dire la forzatura un piccolo sindaco tecnico che gestisce fondamentalmente quasi tutte le pratiche dell'amministrazione comunale. È di fatto quello che secondo quanto prima ascoltato e secondo anche quanto scritto nelle stesse leggi è e deve essere il garante o uno dei garanti della legalità nello stesso municipio e nello stesso comune. Mancano sì ma non mancano i concorsi. Prima il collega di Forza Italia ha ricordato una data 24 aprile 2018 il concorso è in pista ma non viene messo in pista fondamentalmente e quindi è più di un anno che viene atteso questo concorso e quindi magari qualcuno alla pubblica amministrazione dovrebbe svegliarsi sotto questo punto di vista ma Presidente pur essendoci in fieri un concorso non viene effettuato il concorso stesso quindi da una parte il Ministro della pubblica amministrazione annuncia concorsi per la pubblica amministrazione ma non mette in pista un concorso che aiuterebbe e di molto quello che fondamentalmente i nostri sindaci e i nostri comuni stanno vivendo. Vede Presidente in Italia ci sono sotto i 10.000 abitanti ci sono circa 4.000 comuni cioè più del 50% di comuni italiani è sotto i 10.000 abitanti entro questi 4.000 comuni ci sono problemi con i segretari comunali in termini giuridici in termini di spostamenti in termini localizzativi in termini di amministrazione senza segretario comunale sono quasi 2.000 di questi comuni quindi quasi il 50% non hanno segretario comunale che deve evidentemente allestire il proprio lavoro in altri in altri modi è un organo di fatto monocratico del comune passa tutta quella che giuridicamente e non soltanto giuridicamente anche a livello amministrativo passa tutto quello che svolge il comune attraverso l'ufficio del segretario comunale probabilmente in alcuni comuni è il principale alleato del sindaco del sindaco stesso allora mi viene un po' da pensare quando leggo la pur virtuosa proposta che viene fatta da parte della maggioranza da parte di un deputato di Italia Viva se non erro soprattutto al secondo al secondo impegno ovvero quando prima il collega ricordava e mi sono segnato due punti del suo intervento la cosiddetta terzietà e i tempi di selezione è un sillogismo dire che all'impegno due ovvero ad adottare iniziative per individuare in via temporanea da parte di chi in via temporanea forse doveva esserci scritto perché allora se questa via temporanea è ricordo purtroppo sottosegretario che in Italia non ci sono cose più stabili delle cose instabili quindi è molto probabile che noi ci troveremo una volta fatto il decreto i vice o i facenti in funzione per i prossimi tre quattro cinque anni quella inizia a diventare una casta quello inizia a diventare un poltronificio perché se giustamente ricordava che i tempi di selezione sono molto lunghi allora è evidente che i tempi di selezione possono durare due o tre o quattro anni e i facenti in funzione a questo punto diventano sì sempre sulla base di un ragionamento anche fatto dall'amministrazione dalla giunta dal sindaco che può essere di destra di sinistra di centro allora lì sì inizia a diventare un problema tant'è vero che noi Presidente nella nostra mozione abbiamo fatto e abbiamo inserito un punto che secondo noi umilmente è interessante sotto questo punto di vista ma come ci siamo arrivati mi avvio le conclusioni come ci siamo arrivati sottosegretario a questa situazione al netto delle mancanze lo dico della Bassanini che evidentemente oramai penso siano i tempi ci siano i tempi maturi per poterla emendare in modo più interessante abbiamo parlato di blocco delle assunzioni e quindi di non più un turnover in pancia alla pubblica amministrazione alvio che non tocca soltanto attenzione i segretari comunali ma molti altri ambiti della pubblica amministrazione bene però c'è stato e di fatto un blocco dell'assunzione che viene questo blocco dell'assunzione esattamente da coloro che attualmente stanno al governo però negli anni il blocco delle assunzioni è stato fatto dal governo del partito democratico in questo paese non sono stati rinnovati i concorsi sempre in seno e durante presidente a quel governo e poi c'è il problema fondamentale che queste persone questi professionisti che addirittura sono iscritti ad un albo fanno un doppio triplo quadruplo lavoro al posto che dedicarsi soltanto al loro comune e quanto bisogno c'è di dedicarsi in questo momento anche grazie purtroppo ad una serie di pensionamenti che sono piuttosto ampi al proprio comune nulla osta rispetto alla collaborazione dei segretari comunali in altre amministrazioni ci mancherebbe altro però dobbiamo dare loro mezzi e numeri per poterlo fare in maniera in modo virtuoso addirittura il fortunatamente ex presidente del consiglio Matteo Renzi nel 2014 2015 per quello mi stupisco però mi stupisco favorevolmente rispetto alla mozione presentata da prima firma di un deputato di Italia Viva all'epoca nel 2014 il primo ministro Renzi proponeva attenzione l'abolizione dei segretari comunali sulla sorta di una rottamazione sulla rottamazione Matteo Renzi voglio dire ci ha fatto una carriera politica sulla sorta di una rottamazione burocratica che all'epoca doveva essere fatto vede presidente le leggo una cosa simpatica se ho ancora 30 secondi ho trovato un'intervista del 2014 di un sindaco di un sindaco che faceva parte fa parte del partito democratico il sindaco di Lodi e questa intervista diceva caro sindaco come ha preso della volontà di Matteo Renzi di eliminare i segretari e cosa ha pensato in quel momento l'ho sentito al giornale al telegiornale ho pensato che Renzi non si ferma ha esultato rispetto all'abolizione e voglio dire c'è una chiara corrispondenza giornalistica rispetto a tutto quanto sto dicendo però all'epoca Matteo Renzi identificava i segretari comunali come una casta da abbattere quindi siamo contenti che siete venuti dalla nostra parte cercando di evidentemente capire quanto effettivamente la figura del segretario comunale può essere importante la nostra sottosegretaria la nostra proposta si basa in termini di impegno su tre voglio dire alvi piuttosto piuttosto semplici e secondo noi abbastanza intuibili anche in termini di volontà favorevole nell'accettarli da parte dell'esecutivo si basa in una prima parte rispetto alle spese nel senso che se attualmente noi andiamo avanti con i concorsi facciamo un decreto le spese rispetto ai segretari comunali secondo noi dovrebbero essere in pancia al ministero dell'interno liberando di queste risorse soprattutto i piccoli comuni che in questo momento stanno soffrendo le casse di piccoli comuni soprattutto stanno soffrendo quindi per quanto riguarda l'aspetto economico deve essere necessariamente in pancia al ministero dell'interno il secondo impegno parla presidente di una velocizzazione immediata rispetto ai concorsi o perlomeno se non si riesce a bandire un concorso nello scorrimento delle graduatorie ci sarà evidentemente qualcuno tra gli idoni che può evidentemente apprendersi questa cattedra secondo noi sì quindi è una cosa che si può mettere nelle mille proroghe immediatamente e il terzo impegno della nostra mozione parla e dice fondamentalmente che sì vanno bene come recita un altro impegno adottare iniziative per individuare in via temporane figure che possono garantire la regenza quindi voglio dire dei vice fondamentalmente ma questi vice non devono essere espressione dei partiti non devono essere espressione delle parti politiche ma devono semplicemente essere quasi subiudice o subordinati ai titolari stessi delle cattedre mi spiego se un segretario comunale non ce la fa a fare dieci comuni ma ha in pancia dieci comuni ne cede tre ai cosiddetti vice però la gestione dello stesso deve essere sempre a capo del cosiddetto segretario comunale di cattedra in questo in questo caso perché se no riusciremo e non andremo a fare quanto di virtuoso sta scritto in queste chiudo presidente in queste in queste emozioni e chiaramente andremo per l'ennesima volta a riperpetrare un antico adagio che parla sempre come prima ricordato di poltrone e poltronificio su scelte dirette da parte anche di pubbliche amministrazioni che molto spesso anche in questo paese non si sono rivelate del tutto virtuose grazie presidente grazie a lei a facoltà di intervenire l'onorevole Berti prego grazie presidente la mozione che è in discussione oggi alla camera le mozioni che sono in discussione toccano il tema del personale della pubblica amministrazione nello specifico il ruolo dei segretari comunali i segretari comunali sono figure amministrative previste dall'articolo 97 del Tuel e a norma dell'articolo già citato svolgono funzioni di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa agli organi dei comuni esprimono pareri hanno funzione erogatoria e possono svolgere le funzioni del direttore generale con questa mozione la camera dei deputati riconosce che le difficoltà degli enti locali che incontrano nel reperire una figura così centrale per la tutela dei principi cardini nella PA è un problema nazionale questo problema è sentito maggiormente nei comuni con popolazioni inferiori a 15.000 abitanti dove l'organico della pubblica amministrazione è ridotto e dove l'attività di supporto amministrativo alla politica diventa essenziale per svolgere la funzione di indirizzo politico si stima che il 40% degli enti locali sia dotato di un segretario comunale ci sono 1.400 posti vacanti nei piccoli comuni e il numero dei segretari comunali si è ridotto di 700 unità in 10 anni il tema della carenza dei segretari comunali è stato anche oggetto dell'intervento del Presidente del Consiglio Conte dell'Assemblea annuale ANCI il 20 novembre 2019 e questa mozione rafforza l'impegno politico della maggioranza perché i tempi sono maturi per spingere le commissioni ministeriali a velocizzare le procedure di assunzione relativa al concorso COA 6 per 224 segretari peraltro il concorso COA 7 è in forte ritardo e per questo chiediamo al Ministero dell'Interno di fare in fretta consci del fatto che esistono tempi non comprimibili per legge nella mia attività di relazione istituzionale con i comuni e credo che questo sia un'esperienza che condivisa da molti colleghi ho avuto la possibilità di toccare con mano lo straordinario contributo dei segretari comunali al funzionamento della macchina amministrativa dato che sono funzionali pubblici dotati di capacità giuridiche ma anche di intelligenza gestionale il loro impatto sulla qualità della legislazione locale e sull'uniformità dell'applicazione della legge in tutto il territorio nazionale nei limiti delle esigenze dell'autonomia e del decentramento non può più passare nel secondo piano per ultimo questa grave carenza di organico non è soltanto un problema di risorse umane degli antilocali ma un vero e proprio rischio per la piena attuazione dei principi costituzionali circa gli antilocali non posso non citare in questa sede gli articoli della costituzione che ci indicano la via l'articolo 5 della costituzione recita che la repubblica è una indivisibile riconosce e promuove l'autonomia locale e attua nei servizi che dipendono dallo stato il più ampio decentramento amministrativo adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento l'articolo 97 della costituzione riguarda l'organizzazione e gli uffici pubblici e prevede che per l'organizzazione sia assicurato il buon andamento e l'imparzialità ed è proprio per attuare pienamente i principi dell'attività amministrativa che chiediamo al Governo di finalizzare l'assunzione relativa al concorso COA 6 e velocizzare le procedure per l'espletamento del concorso COA 7 un ente locale che non può essere assistito appunto dai segretari comunali in fase di negoziazione con il privato un ente locale che non può essere aiutato in fase di definizione e attuazione strategica delle linee programmatiche è un ente locale che sarà più debole nell'attuale proprio con l'indirizzo politico votato dai cittadini nelle elezioni amministrative colleghi Presidente i comuni sono il presidio istituzionale più vicino al cittadino il punto di contatto che fa spesso da cerniere collegamento tra gli uffici pubblici e i servizi disseminati nel nostro vasto territorio nazionale ridiamo ai comuni l'importanza della centralità che la tradizione e la storia italiana le hanno sempre assegnato buon lavoro e grazie grazie a lei a facoltà di intervenire l'onorevole Deida prego grazie Presidente Sottosegretario colleghi come è anticipato il mio collega Rizzetto Fratelli d'Italia è da tempo dall'inizio della legislatura che con i suoi diversi componenti ha presentato interrogazioni su questo tema segnalando che dal Friuli al centro Italia e in ultimo il 28 settembre il sottoscritto denunciando la carenza dei segretari comunali in Sardegna presentavano delle interrogazioni per dire per esempio in Sardegna su un territorio una comunità montana di 11 comuni quella della Barbagia Mandrolisai solo 3 erano i segretari comunali per questo saltavano i consigli comunali o gli amministratori dovevano spostarsi da comune a comune o andare a cercare dove era in sede il segretario comunale per fare la giunta comunale o addirittura il consiglio comunale la curiosità però è che da inizio legislatura denunciamo questo noi sia nel governo Conte 1 che nel governo Conte 2 noi a queste interrogazioni non abbiamo mai avuto risposta non abbiamo neanche avuto la risposta né del presidente Conte che sono contento che va all'assemblea del lancio a fare la passarella davanti agli amministratori presentando o promettendo una risoluzione quando poi si è scoperto che lui sia nella prima edizione del governo con la Lega che poi quella col PD e Italia Viva solamente ci sono stati due rinvii alla pubblicazione delle prove del denaro delle prove e solamente ai milizi di ottobre c'è stata la pubblicazione quindi un ritardo dovuto a chi? Alla mala amministrazione accusiamo lo Stato no a chi ha gestito il Conte 1 e il Conte 2 e oggi non si può dire non si può incolpare la luna se qualcosa è andato storto bisogna prendersi le responsabilità e soprattutto ben vengono le emozioni ma quando una forza di maggioranza chiede al proprio governo di cui fa parte fate qualcosa ma ci viene da interrogarci e chiederci ma non potevate farlo direttamente questo questa velocizzazione questo cambio delle norme chiedere al governo di fare un decreto di fare un qualcosa di inserirlo nel mille prorogo delle norme metterlo nella legge di stabilità per esempio quello che proponiamo dove per esempio togliere le spese nei piccoli comuni nei comuni montani del segretario comunale dalle spese del personale e metterle in capo al ministero dell'interno tutti i provvedimenti che il governo quando uno è forza di maggioranza può fare non è che fa la mozione per dire governo farai o ci aspettiamo che tu fai è un problema che c'è realmente da inizio legislatura ma anche delle scorse legislature colpa della politica di chi ha amministrato il governo ma adesso non possiamo sempre rimbalzare le responsabilità in eterno a qualcuno di indefinito quindi chiediamo uno questo io ho già fatto per venire al presidente Fico una nota scritta di tutte le interrogazioni che secondo regolamento dovevano essere avere risposta entro un tot di tempo e che non hanno mai avuto risposta e tra cui questa sui segretari comunali perché poi l'altro problema è che sì c'è il diario delle prove però peccato che riguardi solamente 224 segretari comunali per oltre 1400 comuni e ci sono 291 borsisti un numero assolutamente che sarà una goccia nel mare e poi come qualcuno ha detto giustamente tutti si vorranno accaparrare le sedi più convenienti tutte le sedi quelle più ovviamente dove si guadagna dove è più facile arrivare e nessuno vorrà andare in quelle sedi periferiche dove ovviamente bisogna trasferirsi è difficile perché andare in un paese di 600 anime in montagna ovviamente dove poi contemporaneamente lo Stato chiude le scuole o comunque chiude tutti quelli che sono i servizi pubblici perché c'è poca gente e viene un po' difficile che un segretario comunale scelga di andare in quella sede allora certo che ci appelliamo ci appelliamo e siamo contenti che sia arrivata una discussione in Parlamento ma quello che ci appelliamo al Governo è quello non solo di velocizzare ma tenere conto delle proposte di Fratelli d'Italia per cercare di venire incontro agli amministratori locali ma soprattutto fare questi 200 posti non bastano assolutamente si possono fare prendere altri provvedimenti nei mille proroghe si possono fare altre proposte prendere provvedimenti urgenti perché però perché poi se no la politica è solamente propaganda e non risolviamo il problema degli amministratori locali perché poi nelle regioni dove non ci sono gli amministratori segretari comunali non c'è attività ricordiamoci che c'è una piaga per esempio in Sardegna è un primato che non andiamo orgogliosi dove siamo la regione con più attentati verso gli amministratori locali e quindi come ha detto giustamente il collega di Italia Viva c'è la difficoltà anche poi di trovare chi decide di candidarsi o fare l'amministratore c'è il problema come ha sollevato il collega Rizzetto la Bassanini è una legge che ha creato più problemi che altro agli amministratori locali e alla politica allora cerchiamo di fare le riforme che si deve noi siamo disponibili però bisogna concretizzare le idee e bisogna metterle nero su bianco grazie grazie a lei a facoltà di intervenire l'onorevole borghi prego grazie signora presidente signora rappresentante del governo onorevoli colleghi credo sia stata una iniziativa molto pertinente quella assunta dai gruppi di maggioranza di portare all'attenzione dell'aula questa mozione e credo che sia anche un fatto politicamente di rilievo che alla mozione di maggioranza si siano aggiunte una serie di mozioni da parte anche delle altre forze politiche in considerazione del fatto che qui stiamo trattando di un tema che riguarda la salubrità mi verrebbe da definirla in questi termini e la terzietà delle istituzioni e quindi è giusto che ciascuno dal proprio punto di vista porti delle opinioni dei contributi così come è altrettanto giusto e qui rispondo al collega che sia la maggioranza farsi carico di una problematica non abbiamo voluto adottare la politica dello struzzo ma abbiamo al contrario voluto assumere nelle forme più alte e più importanti che un Parlamento si può dare cioè quello di un dibattito parlamentare in aula aperto al contributo di tutti una questione che non è una questione minimale ma che riguarda e afferisce a un tema assolutamente rilevante e cioè quello di come riorganizzare nel nostro Paese la macchina della pubblica amministrazione in piena aderenza ai dettami e ai precetti costituzionali che ricordo sanciscono all'articolo 118 in base al principio della sussidiarietà il Comune come elemento fondamentale dal quale si dirama l'organizzazione democratica del nostro Paese bisogna però visto che questa non è una sede come dire scontata non è un talk show nel quale si possono fare anche i comizi molto spesso da parte di persone che non sanno assolutamente nulla della materia ma è una sede appropriata fare una riflessione un pochettino più approfondita sui motivi per i quali si generano le emergenze perché questa mozione che sarà votata insieme ad altre domani ma che riguardano sostanzialmente un tema che parte da un dato emergenziale che è stato discusso è stato sviscerato da parte dei colleghi qui non debbo aggiungere ulteriori dati che rischierebbero di essere ridondanti nascono però da un problema di fondo cari colleghi anzi nascono da una malattia la malattia è che il processo riformatore nel nostro paese essendo per definizione irrisolto da oramai 30 se non 40 anni determina secondo la nota legge del pendolo una sorta di schizofrenia sulla base della quale alcune figure capita ai consiglieri comunali capita ai consiglieri provinciali è capitato colleghi anche ai parlamentari oggi capita ai segretari comunali di volta in volta vengono inseriti all'interno di una discussione del tutto impropria inopportuna e sbagliata che tende a liquidare il tema dell'organizzazione della democrazia esclusivamente all'insegna della demagogia e quindi sostanzialmente porta a far sì che queste figure vengano di volta in volta inserite tra le figure che possono essere sacrificate sull'altare di quel populismo demagogico che pensa di risolvere le problematiche semplicemente cancellando con un tratto di penna di volta in volta alcuni strumenti di organizzazione o della pubblica amministrazione o addirittura delle forme della vita democratica del nostro paese questo è un problema che ha determinato il fatto che per rimanere al tema noi non siamo ancora riusciti a venire a capo di una questione della quale insieme col tema della riorganizzazione dello Stato discutiamo da 30 anni e cioè il tema della riorganizzazione dei poteri locali nel nostro paese perché sì signor sottosegretario stiamo vivendo un dato emergenziale ma attenzione a non fare l'errore di risolvere il dato emergenziale facendo finta che non esiste il dato strutturale sullo sfondo perché noi rischieremo di aumentare problemi e problemi allora è possibile immaginare di comprimere i tempi ed avviare un percorso di riorganizzazione almeno sotto il profilo delle forme apicali e dirigenziali della pubblica amministrazione comunale immaginando già di avere in mente quale possa essere il modello a regime di riorganizzazione della macchina comunale del nostro paese perché altrimenti noi rischiamo anche qui di introdurre degli elementi di demagogia se non di falsità nel dibattito perché colleghi noi in Italia abbiamo 7.914 comuni possiamo dire in tutta leggerezza che in Italia possono esistere 7.914 stazioni appaltanti possiamo dire in tutta semplicità che i 7.914 comuni sono tutti uguali possiamo ritenere che facendo esclusivamente una operazione sulla carta si possa risolvere il problema stabilendo il principio che ad ogni comune spetta un segretario comunale e poi Dio vede e Dio provvede per tutto il resto magari dimenticandosi di quello che abbiamo detto ieri perché signora Presidente è un po' curioso si capisce ma è anche un po' curioso che oggi qui ci vengano a fare la predica quelli che qualche anno fa nei banchetti raccoglievano le firme per abolire i prefetti e per abolire i segretari comunali in quanto vissuti come l'emanazione del potere romano allora mettiamoci d'accordo riusciamo a fare una zona franca dalla demagogia dai comizi di quartiere o di strapaese e immaginare che attorno al tema della ridefinizione delle regole del gioco tra cui vi è il tema della dirigenza non il tema solo dei segretari comunali il tema della dirigenza e il modo con il quale non riorganizziamo la burocrazia e la presenza della pubblica amministrazione nel nostro paese riusciamo a fare delle discussioni di merito lasciando perdere quella malattia a cui facevo riferimento in precedenza della demagogia spicciola che è quella che produce questi esiti nefasti perché quelli che oggi contestano gli effetti di alcune battaglie ieri erano sugli scudi per chiedere questo tipo di abolizioni allora proviamo a ripartire da qui noi come partito democratico sottoporremo nei prossimi giorni alle forze politiche la nostra idea in attuazione di un passaggio importante che è stato inserito all'interno della legge bilancio come collegato di riforma degli enti locali sottoporremo le nostre idee le nostre proposte ci auguriamo che altrettante idee altrettante proposte possano venire chiediamo al governo di iniziare un percorso di risoluzione di questa specifica problematica inserendola all'interno di questo canovaccio e quindi immaginare per esempio che sia possibile affrontare la formazione e la costruzione di un sistema nel quale si possa arrivare in maniera temporalmente data nel nostro paese a soprattutto venendo incontro alle difficoltà dei comuni più piccoli più fragili più rarefatti di andare verso una dimensione di aggregazione per fare in modo che almeno sotto il profilo della dirigenza non vi sia la schizofrenia attuale e siccome l'esperienza ci dice che se la prendiamo da questo verso forse risolviamo uno dei problemi che in questi anni hanno bloccato il tema della riorganizzazione della rete comunale del nostro paese perché noi sappiamo perfettamente che nell'Italia delle cento città e degli ottomila paesi immaginare di mettere in discussione la dimensione territoriale del comune provoca per vari motivi che tutti quanti conosciamo una serie di riserve mi avvio la conclusione signor Presidente una serie di difficoltà e anche una serie di legittime preoccupazioni immaginare quindi nella salvaguardia della titolarità e della garanzia dell'autonomia comunale che il percorso di soluzione non passi attraverso una indifferenziata attribuzione di come dire modalità di assegnazione ai singoli comuni che restano poi soltanto sulla carta e che affidano alla casualità l'attribuzione della definizione del perimetro della dirigenza pensando invece che si possa attribuire una sorta di segreteria generale per comuni aggregati sulla base di un minimo numero demografico o sulla base di una dimensione di carattere orografica vista la complessità e la peculiarità del nostro Paese è già un passo verso una ipotesi di riorganizzazione degli enti che può tenere insieme la soluzione dell'emergenza e l'avvio di una bozza di riorganizzazione della rete comunale del nostro Paese che è uno dei temi che siamo pronti ad affrontare in una piena leale collaborazione con tutte le forze politiche in una logica di confronto all'interno di questo Parlamento grazie grazie a lei non essendovi altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali il governo intende intervenire adesso o si riserva di farlo successivamente? prego sottosegretario Variati prego non volevo che questa importante non volevo mi scusino non volevo che questa importante discussione che si è creata tra vari gruppi dalla maggioranza a chi oggi maggioranza non è in questa parte di vita democratica del Paese non volevo far mancare un pensiero riservandomi ovviamente signora Presidente di esprimere puntualmente il pensiero del governo per ogni singola mozione che è stata oggi che sono emozioni che sono state oggi presentate non c'è ombra di dubbio che sui segretari comunali vi sia una vera e propria emergenza lo dicono i numeri alla data odierna sono circa 2300 le sedi vacanti sulle 4794 sedi di segreteria disponibile quindi un 48% di sedi vacanti e diventa drammatico questo se guardiamo ai piccoli comuni piccolissimi e piccoli comuni fino a 3000 abitanti dove le sedi vacanti sono 1571 su 2031 quindi arriviamo al 77% di sedi vacanti e quindi non c'è ombra di dubbio che questa discussione che c'è stata e che peraltro da merito anche a questa professionalità dei segretari comunali di dirigenti che danno garanzia che accompagnano gli atti che sono come dire figure essenziali per la vita di un comune dei suoi organi del sindaco io sono stato sindaco per tanti e tanti anni e so quanto era importante il pensiero e la legittimità dell'atto che mi veniva certificato dal segretario e pensare che così tanti sindaci in Italia non abbiano questo accompagnamento evidentemente è un aspetto assai grave e il Parlamento oggi ha dimostrato attraverso queste emozioni di voler passare subito dalle intenzioni dalle discussioni dalle risposte alle interrogazioni a degli atti normativi che mai come in questo caso possono giustificare anche un assetto diciamo attraverso decretazione darò domani alcune risposte ma è assai interessante quello che poc'anzi veniva detto e cioè occorre un po' essere strabici su questa questione dei segretari comunali da un occhio bisogna guardare le cose immediate ed è evidente che il corso concorso i meccanismi le architetture che portano alla definizione dei segretari vanno immediatamente riviste perché non reggono ma l'altro occhio deve guardare lontano e il Parlamento ricorderà bene loro quanto sia stato detto in sede di nota di aggiornamento del DEF quando è stato consegnato al Governo un compito importante che è quello di una revisione organica del Tuel vecchio di vent'anni ormai e ahimè con una stratificazione di normative che in questi vent'anni sono venute che hanno creato dei veri e propri problemi alla conduzione della vita ordinamentale locale e l'assetto degli 8.000 comuni italiani tra cui tanti piccoli piccolissimi comuni che peraltro rappresentano identità di tante aree interne del Paese e questa frammentazione deve portarci a ipotizzare un cammino non semplice non banale ma a mio avviso indispensabile ecco perché questi due occhi l'occhio che guarda subito e però l'altro occhio che ti guida a guardare un po' più in là quindi grande soddisfazione intanto per questo approfondimento che i vari gruppi attraverso le mozioni che sono state presentate oggi hanno avuto e mi riservo domani puntualmente di dare delle risposte rispetto alle proposte precise che sono contenute nelle mozioni grazie grazie sottosegretario naturalmente domani ci sarà poi tempo e modo di esprimere i pareri in seguito della discussione e rinviato ad altra seduta avverto che sono state presentate a norma dell'articolo 96 bis comma 3 del regolamento le questioni pregiudiziali e l'obbligide d'altri numero 1 e l'essi d'altri numero 2 e l'essi d'altri numero 3 riferite al decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi di organizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché di innovazione tecnologica secondo le intese intercorse tra i gruppi tali questioni pregiudiziali saranno esaminate poste in votazione alla seduta di domani quale secondo argomento l'ordine del giorno dopo l'esame la votazione delle questioni pregiudiziali riferita al decreto legge recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del mezzogiorno passiamo quindi agli interventi di fine seduta a facoltà di intervenire l'onorevole Trano prego grazie presidente gentili colleghi questo è un momento assai imbarazzante per me per i cittadini della provincia di Latina e per i suoi rappresentanti politici le indiscrezioni giornalistiche che vedevano un coinvolgimento di una larga fetta di politici del centro-destra in operazioni di compra-vendita di voti e di altri servizi elettorali collaterali trovano ora ulteriore conferma nelle dichiarazioni dei pentiti in corso nel processo Alba-Pontina nessuno vuole sostituirsi ai magistrati perché non siamo neppure al primo grado di giudizio però dobbiamo fare i conti con un tessuto sociale dove i pacchetti di voti danzano da un politico all'altro grazie alla collaborazione di un'organizzazione criminale di origine autoctona tutta puntina e dove questi rapporti avvengono in maniera del tutto spontanea e quasi normale ma nel Lazio meridionale sono state accumulate ricchezze ingenti ed immobili di cui lo Stato si sta faticosamente riappropriando grazie a una rodevole azione della Prefettura in sinergia con la Questura Presidente questa vicenda non può lasciare quest'Aula indifferente perché dove ci sono ponti verso il malaffare è evidente che ci siano anche i pontieri e sono pontieri che si vestono da Stato e si sostituiscono allo Stato nelle sue forme e nelle sue propaggine amministrative in questo senso abbiamo tutti una responsabilità personalmente ho accompagnato alcuni commissari antimafia in provincia di Latina ed ho sollecitato il Presidente della Commissione antimafia a fare chiarezza su una provincia dove c'è una concentrazione di andrangheta mafia e camorra che comincia a diventare asfisiante e dove i giornalisti come spiegato in una mia interrogazione parlamentare subiscono querele preventive ed incontrano difficoltà di ogni genere a raccontare questi fatti sono sicuro che il Presidente Morra approfondirà e per questo lo ringrazio e mi auguro che l'impegno preso dal primo governo Conte sulla creazione di sezioni staccate della direzione distrittuale antimafia in zona ad alta densità mafiosa che si è concretizzato nell'accoglimento di un mio ordine del giorno presentato in occasione del decreto sicurezza bisso trovi a più presto un seguito come il Movimento 5 Stelle e concludo saremo sempre dalla parte dei cittadini onesti di questo Paese e contro il male affare e non ci fermeremo e infine per fare una citazione ricordando il grande Giovanni Falcone politica e mafia sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio o si fanno la guerra o si mettono d'accordo grazie Presidente grazie a lei a facoltà di intervenire l'onorevole Berti prego grazie Presidente porto all'attenzione di quest'Aula allo stato di un cavalcavia a Ponte d'Aera in provincia di Pisa nei pressi della zona di Gello che passa sopra la strada di grande comunicazione FIPILI come sapete in seguito al crollo del ponte Morandi nell'agosto del 2018 c'è stata una forte presa di coscienza collettiva circa lo stato di manutenzione delle nostre strade e delle nostre infrastrutture non dobbiamo farci prendere dal panico ma il rischio di abbandono di interi chilometri di strade è concreto come hanno mostrato il crollo del ponte a 6 Torino-Savona il crollo di un pezzo di tunnel recentemente sempre a Genova ma per restare in Toscana possiamo parlare del 24 agosto 2018 quando un braccio di metallo lungo 5 metri che reggeva due cartelli è crollato e per precauzione si decise di togliere tutti i 22 cartelli simili lungo la strada la situazione a Ponte d'Aera appare preoccupante come emerge anche dalle foto e dai servizi del quotidiano locale il Tirreno che si è occupato in ben due servizi del 6 agosto 2019 e 28 settembre lo stato di manutenzione del ponte è finito anche sulla TV nazionale e ormai racchiara a tutti lo stato dell'infrastruttura che in alcuni punti è sprofondata addirittura di mezzo metro con dei lattoppi costituiti da foglie contenuti in sacchi della spaziatura o da tappetini delle macchine a quanto pare il sindaco del comune di Ponte d'Aera si è attivato per avere informazioni la ditta VR ha confermato le criticità la regione toscana ha confermato che è proprietaria della strada ma sta ancora valutando di chi ha la competenza per la manutenzione dato che a quanto emerge dai quotidiani locali anche la città di metropolitana di Firenze è indecisa circa la competenza in questo caso i cittadini si aspettano risposte chiare e decise basta lo scarico al barile la sicurezza stradale riguarda tutti grazie grazie a lei a facoltà di intervenire l'onorevole Sensi prego grazie presidente l'ennesima aggressione di destra a Roma questa volta ai danni di due donne due giornaliste Wendy Elliott dell'agenzia di stampa alla press e Roberta Benvenuto di Ala News colpevoli solo di fare il loro lavoro riprendendo la commemorazione della strage di H. Larenzia il solito attivista della destra estrema le solite minacce te la spacco la telecamera era un calcio gli immancabili saluti romani l'anno scorso era toccato a due giornalisti dell'Espresso Federico Marconi e il fotografo Paolo Marchetti come se in questa città nella nostra città ci fosse una tassa da pagare un pizzo quello alla violenza fascista nei confronti della stampa solidarietà alle giornaliste ricordo i videomaker sono sempre di più il primo presidio della libertà di informazione e non solo in Italia sono spesso più esposti e soli e la richiesta che il Viminale e il Campidoglio capirai si attivino su questa vicenda quanto prima che è già tardi troppo tardi grazie Presidente grazie a lei a facoltà di intervenire l'Onorevole D'Alessandro prego la ringrazio Presidente di cuore è necessario che quest'Aula sappia e che da quest'Aula arrivi un messaggio forte in particolare al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti perché quello che sta accadendo in una parte d'Italia nell'Italia centrale adriatica è quanto meno scandaloso e quanto di più impossibile solo da immaginarlo in questo momento nei giorni precedenti durante le festività non solo l'autostrada è bloccata ma hanno deviato parlo della 14 ma hanno deviato il traffico pesante in Abruzzo sulla Statale 16 che è diventata un incubo non solo per chi ci passa non solo per chi ci lavora con il transito delle merci ma soprattutto per i cittadini che vivono là addirittura ieri siamo arrivati a leggere sui cartelloni della 14 14 ore di fila per fare qualche chilometro allora io ho portato il caso in aula al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ho scritto al Ministro nella speranza di avere una risposta e capisco comprendo gli impegni il problema è che non deve rispondere a me il Ministro deve rispondere a migliaia di cittadini che dal nord e sud Italia attraversano la 14 e che non possono più rimanere in questa condizione non è una responsabilità del Ministero c'è un atto da parte del giudice di Avellino che ha sequestrato i guardrail che quindi provoca questa cosa un disastro in termini di circolazione e ambientale io mi auguro che nei prossimi giorni il Ministero possa dare delle risposte definitive su una situazione intollerabile grazie grazie a lei do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 9 gennaio 2020 ore 11 esame e votazione della questione pregiudiziale riferita al decreto legge recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento esame e votazione delle questioni pregiudiziali riferite al decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini legislativi di organizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché di innovazione tecnologica seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative in sede internazionale volta rispetto dell'autonomia riconosciuta a Hong Kong alla luce delle manifestazioni in corso negli ultimi mesi seguito della discussione della mozione concernente iniziative volte a promuovere le maratone e incentivare la partecipazione di atleti stranieri e televenti con particolare riferimento ai profili afferenti alla tutela sanitaria seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative urgenti volte a far fronte alla rilevante carenza di segretari comunali anche tramite un'efficace semplificazione e accelerazione delle procedure selettive la seduta è tolta di segretari comunali